In un piccolo villaggio giapponese, tra colline verdi e campi di riso ondeggianti, viveva un giovane di nome Hiro. Il suo villaggio era noto per la sua atmosfera serena e la gente semplice che lo abitava. Un giorno, Hiro sentì una frase che gli fece eco nell'anima, il successo è una questione di scelta. Da quel momento, decise che la strada del successo sarebbe stata la sua strada, e con una determinazione incrollabile, iniziò a lavorare instancabilmente per raggiungere i suoi obiettivi. Hiro aveva un sogno, voleva coltivare il terreno di famiglia e creare un raccolto così abbondante da poter aiutare il suo villaggio a prosperare. Il suo giorno iniziava presto, con il sorgere del sole. Si alzava prima di tutti, indossava abiti semplici e robusti, e con i suoi strumenti agricoli iniziava a lavorare la terra. Hiro dedicava ogni momento libero per imparare nuove tecniche agricole, studiando libri e consultando anziani saggi del villaggio. La sua determinazione e dedizione cominciarono a diffondersi come una brezza rinfrescante tra i contadini del villaggio. Un giorno, durante una visita al tempio locale, Hiro incontrò un anziano monaco, Sensei Kaito. Sensei Kaito era noto per la sua saggezza e la sua profonda comprensione della vita. Hiro gli raccontò del suo sogno di successo e di come stesse lavorando duramente per raggiungerlo. Il saggio monaco ascoltò attentamente e disse a Hiro, il successo è una possibilità che dobbiamo cogliere. Ma la vera chiave non è solo nell'impegno esterno, ma anche nell'equilibrio interno. La tua mente e il tuo spirito devono essere in armonia con la tua azione. Sensei Kaito iniziò ad insegnare a Hiro l'arte della meditazione zen. Hiro imparò a trovare la calma nel caos quotidiano, a concentrarsi sul presente e a connettersi con la terra che coltivava. Con il tempo, la sua mente divenne chiara come l'acqua di un ruscello di montagna, e la sua azione divenne ancor più potente. I risultati furono straordinari. Il raccolto di Hiro divenne uno dei più prosperi del villaggio, e la sua generosità verso gli altri contadini fece sì che tutti beneficiassero della sua saggezza e del suo lavoro instancabile. Il villaggio fiorì, non solo economicamente ma anche spiritualmente. Hiro aveva scoperto che il vero successo non era solo nella ricchezza materiale, ma anche nella ricchezza dello spirito. La sua scelta di essere una persona di successo non solo aveva trasformato la sua vita, ma aveva portato benessere a tutto il suo villaggio. E così, il racconto di Hiro divenne una leggenda nel villaggio giapponese. La storia di un giovane che, attraverso la determinazione, l'impegno e la saggezza, aveva trasformato la sua vita e ispirato gli altri a fare lo stesso. La lezione imparata da Hiro era chiara. Il successo è una scelta che deve essere coltivata con cura, come un giardino rigoglioso sotto il sole del Giappone. Con il passare del tempo, la fama di Hiro si diffuse oltre i confini del suo villaggio. Gli arrivavano visite da altri luoghi, da contadini che cercavano consigli e da viandanti curiosi desiderosi di conoscere il segreto del suo successo. Hiro accoglieva tutti con umiltà, condividendo la sua storia e insegnando loro l'importanza di trovare l'equilibrio tra il lavoro fisico e la pace interiore. Un giorno, durante una calda estate, un signorotto della regione sentì parlare della prosperità del villaggio di Hiro. Curioso di scoprire il segreto di tanta abbondanza, decise di visitare Hiro. Quando arrivò, rimase stupito dalla semplicità e dalla bellezza del villaggio. Intravide Hiro intento nei suoi campi, circondato dal verde lussureggiante delle coltivazioni. Il signorotto, di nome Takeshi, si avvicinò a Hiro e disse, ho sentito parlare della tua saggezza e del tuo successo. Vorrei capire come hai trasformato questo modesto villaggio in un luogo così florido. Hiro, con un sorriso gentile, rispose, il successo è una questione di scelta. Ho deciso di dedicare la mia vita a coltivare non solo la terra ma anche il mio spirito. La prosperità del villaggio è il risultato di questo equilibrio. Takeshi, inizialmente scettico, decise di passare del tempo con Hiro per comprendere appieno la sua filosofia. Hiro lo invitò a partecipare alle sue sessioni di meditazione e a condividere la gioia del lavoro nei campi. Con il tempo, Takeshi iniziò a comprendere il valore dell'equilibrio interiore e il legame profondo tra l'uomo e la natura. Col tempo, la fama di Hiro e del suo villaggio raggiunse l'orecchio del sovrano della regione, che decise di onorare Hiro con un riconoscimento ufficiale. Il sovrano inviò un emissario al villaggio per consegnare a Hiro una pergamena d'oro, simbolo del suo apprezzamento per la saggezza e il successo raggiunto. Il piccolo villaggio, una volta trascurato, divenne un esempio di prosperità e armonia. La gente imparò a coltivare non solo la terra ma anche il rispetto reciproco e la connessione con il mondo intorno a loro. Hiro, alla fine della sua vita, guardò con soddisfazione il villaggio che era cresciuto grazie al suo impegno e alla sua saggezza. Aveva dimostrato che il successo non è solo una questione di ricchezza materiale, ma di coltivare l'abbondanza nella mente e nel cuore. Il suo nome divenne una leggenda, raccontata da generazione in generazione, e il villaggio che aveva chiamato casa continuò a prosperare, portando con sé la lezione preziosa di Hiro. Il successo è una possibilità che dobbiamo cogliere. Ma solo quando troviamo l'armonia tra ciò che facciamo e chi siamo veramente. Oggi desidero condividere con voi le profonde riflessioni ispirate alla storia straordinaria di Hiro, un uomo che ha dimostrato che il successo è veramente una questione di scelta. La sua vita ci insegna che il vero successo non è solo raggiungere obiettivi materiali, ma coltivare la ricchezza dello spirito e trovare l'armonia con ciò che ci circonda. Innanzitutto, considerate l'importanza di fare una scelta consapevole nella vostra vita. Hiro decise di essere una persona di successo, e questa decisione guidò ogni sua azione. La scelta è un potente strumento che tutti possediamo. Possiamo scegliere di essere positivi, di perseguire i nostri sogni, di coltivare l'abbondanza nella nostra vita. Il successo è un percorso che inizia con la scelta di camminare su di esso. La storia di Hiro ci insegna anche che il successo non è solo il risultato del lavoro fisico, ma richiede anche la cura del nostro mondo interiore. La meditazione Zen, che Hiro abbracciò, è un potente strumento per trovare la calma nella frenesia quotidiana. La pratica della consapevolezza, della presenza mentale, ci aiuta a connetterci con il nostro vero sé e a mantenere l'equilibrio tra mente, corpo e spirito. La generosità di Hiro è un altro insegnamento prezioso. Il successo autentico si manifesta quando condividiamo la nostra prosperità con gli altri. Non si tratta solo di accumulare ricchezza, ma di creare una comunità in cui tutti possono prosperare insieme. La generosità, la condivisione e l'aiuto reciproco sono pietre miliari lungo il sentiero del successo duraturo. Vi invito a riflettere su come potete applicare queste lezioni nella vostra vita di tutti i giorni. Scegliete di essere protagonisti delle vostre vite, trovate momenti di silenzio e riflessione per nutrire il vostro mondo interiore, e praticate la generosità in ogni occasione. Il successo non è solo un destino lontano, è una possibilità che dobbiamo cogliere ogni giorno. Infine, ricordate che la vostra storia, come quella di Hiro, può ispirare gli altri. Condividete le vostre esperienze, incoraggiate gli altri a fare scelte consapevoli e a cercare l'armonia nella loro vita. Insieme possiamo costruire un mondo in cui ognuno ha la possibilità di raggiungere il successo autentico e duraturo. Vi lascio con queste parole, il successo è una possibilità che dobbiamo cogliere, e la strada per raggiungerlo inizia con la scelta di essere la migliore versione di noi stessi ogni giorno. Carissimi amici, spero che la storia di Hiro e le riflessioni che abbiamo condiviso oggi abbiano ispirato il vostro cuore e la vostra mente. Prima di concludere, vorrei invitare ciascuno di voi a fare una scelta consapevole per il successo nella vostra vita. Se avete trovato valore in queste parole, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle prossime ispirazioni zen e storie motivazionali. Lasciate un like se avete apprezzato il contenuto e condividete questo video con chiunque crediate possa trarne beneficio. Inoltre, non esitate a lasciare un commento con le vostre riflessioni, domande o condividendo le vostre esperienze di scelte consapevoli nella vita di tutti i giorni. La vostra partecipazione è fondamentale per creare una comunità di persone che si sostengono a vicenda lungo il cammino verso il successo e l'armonia interiore. Vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ricordate che il successo è una possibilità che dobbiamo cogliere ogni giorno, e insieme possiamo costruire un futuro di prosperità e ispirazione. Ci vediamo al prossimo video. Tanto amore e saggezza a tutti voi!